bentornati a questo corso di filosofia su youtube abbiamo concluso con sant'agostino e adesso cominciamo a parlare della filosofia nell'età medievale questo è un video di raccordo dove dovremo come dire parlare un po del contesto storico che darà nel quale poi si svilupperà anche la filosofia dell'epoca medievale partiamo subito col dire che dopo la fine dell'impero romano d'occidente i popoli che per secoli avevano partecipato della medesima civiltà greco romana intravesero strade diverse e spesso contrapposte comunque nettamente separate quel mare che per secoli era stato al centro di una civiltà sostanzialmente unitaria si trovò diviso perché da una parte l'impero bizantino accentuava il suo carattere orientale mentre a occidente le diverse popolazioni barbariche davano vita a regni dai confini incerti spesso anche in lotta fra loro non passerà molto molto che la grande espansione arabo-islamica del nono secolo dopo cristo completerà la divisione del mediterraneo accentuando l'isolamento dell'occidente europeo il medioevo con l'idea di arretratezza sbagliatissima ovviamente che evoca perché il medioevo ovviamente furono dieci secoli di storia caratterizzata da profondi mutamenti e profonde rivoluzioni riguarda appunto questa zona del mondo il medioevo l'estremità occidentale del grande continente eurasiatico qui dopo un millennio di lotte contro una natura aspra e nemici aggressivi nascerà l'europa dei tempi moderni stiamo quindi a descrivere velocemente la fine dell'unità politica del mediterraneo lo sfaldamento graduale dell'impero romano seguito dall'inevitabile crollo della sua parte occidentale determinò un vuoto di potere che nessuno fu in grado di colmare tantomeno i barbari i barbari avevano delle istituzioni rozze ed erano più orientati ad assorbire le istituzioni romane piuttosto che a imporre le proprie pensiamo alla legge no pensiamo alla lex romana burgundionum del sesto secolo che fu un insieme di principi di diritto romano però rielaborati dal re barbaro dei dei burgundi una sola istituzione riusciva a funzionare come punto di riferimento per tutti la chiesa spesso vescovi e papi assumevano le funzioni che erano state precedentemente dei governatori romani e l'opera di evangelizzazione della chiesa di roma fondata sulla forza propulsiva del monachesimo un aspetto importantissimo si estendeva imponendosi anche contro le eresie come abbiamo visto già anche sant'agostino nella lotta con le eresie pelagiane donatiste l'arianesimo che appunto queste eresie come l'arianesimo che ricordiamo in particolar modo negava la divinità di cristo sostenendo che cristo non fosse della stessa natura del del padre avevano trovato molti seguaci per esempio queste queste eresie fra le popolazioni germaniche l'occidente diveniva cristiano nel frattempo in un piccolo villaggio arabo in uno scuro villaggio arabo nel 622 un uomo di nome mohammed per gli amici maometto profeta di una nuova religione monoteistica abbandonava con i suoi seguaci la mecca la città della mecca per sottrarsi all'ostilità delle tribù pagane e avere maggiore libertà di come dire di imporre di distribuire di far libertà di di diffondere il nuovo culto questo viaggio di trasferimento si chiama legira e rappresenta la nascita dell'islam il nome dell'islam gli arabi conquisteranno in pochi decenni un impero che si estendeva dall'oceano atlantico alla valle dell'indo oggi il 23 per cento della popolazione mondiale che c'è 1,8 miliardi di persone è musulmana e l'islam è la seconda religione dopo il cristianesimo insomma cessava così definitivamente l'unità del mar mediterraneo e l'europa cristiana no la repubblica cristianorum era spinta a spostare verso nord il proprio baricentro politico arriviamo alla nascita del sacro romano impero fra le popolazioni germaniche i franchi stanziatisi nella gallia del nord delle alpi avevano aumentato la propria forza sotto la guida della nuova dinastia dei carolingi il cui fondatore carlo martello si era vittoriosamente scontrato a potier nel 732 contro una banda di predoni musulmani e qua come non citare la celebre canzone il sangue del principe del moro arrossano il ciniero d'identico color no carlo martello ritorno alla battaglia potier del celebre duo villaggio de andrè il significato di questa battaglia fu poi enfatizzato fino a farla apparire come un freno posto all'avanzata dell'islam è un posto della cristianità all'avanzata dell'islam certo da questa vittoria il prestigio dei carolingi ne risultò certamente accresciuto e loro poi seppero consolidare la loro immagine di defensor fidei di difensori della fede cristiana astringendo dei patti con il papa nasceva in questo modo anche il potere temporale del papa nella stretta alleanza fra chiesa e monarchia carolingia sorgevano le premesse perché la monarchia carolingia riunisse sotto di sé l'occidente cristiano un processo sanzionato dall'incoronazione solenne di carlo magno nipote di carlo martello che per mano del papa ricevette la corona e il titolo di imperatore romano siamo il 25 dicembre 25 dicembre dell'ottocento nel sacro romano impero la forza militare di un popolo germanico si saldava così con la tradizionale civile della roma classica e con quella religiosa della roma cristiana la chiesa poi si faceva garante del potere imperiale siamo alla formazione della società feudale questo impero carolino questo impero carolingio di carlo magno era comunque tuttavia molto diverso da quello romano di cui però si dichiarava erede con un grande con una grande opera di di marketing ma più che altro proprio con una grande opera pubblicitaria che molti pensatori successivamente sveleranno nei loro scritti filosofici no quando intendono la la religione come un religare un qualcosa un religare politico qualcosa che tiene insieme più più stati l'impero carlo magno non era più fondato sul mediterraneo come abbiamo testo detto che questo mediterraneo ormai si era trasformato in una barriera invalicabile no verso il sud e dell'oriente ma aveva il suo baricentro nell'europa continentale poi il panorama economico e sociale dell'europa era stato del tutto stravolto perché il crollo demografico aveva dimezzato la popolazione dai 35 ai 40 milioni del secondo secolo era scesa ai 20 milioni del settimo secolo dopo cristo le città vengono abbandonate i pochi abitanti si concentrano in gruppi isolati sparsi sul territorio privi di reciproche comunicazioni si la grande proprietà terriera fondata a conduzione schiavistica che era proprio dell'impero romano si sfalda e si trova essere ora un sistema di piccoli poderi imanzi affidati a lavoratori dipendenti che spesso erano dei liberti degli schiavi liberati al signore andava una quota di raccolto oltre alle sgradevolissime corvee cioè le prestazioni di lavoro gratuito e sulle terre da lui direttamente controllate dal dominus e questa è la pars dominica dal dominus appunto il sovrano esercitava un potere personale sui suoi sudditi da essi riceveva un giuramento di fedeltà che si sforzava di far rispettare attraverso una fitta rete di funzionari i cosiddetti missi dominici si precisano quindi in questo periodo le basi di quella che sarà la società feudale da regolata da una fitta rete di rapporti di dipendenza personale ciascuno è uomo di un altro uomo ciascuno ha compiuto un giuramento di fedeltà verso qualcuno da cui si aspetta di essere di ricevere protezione e questo ci facciamo subito un collegamento saltando proprio i secoli con il concella dialettica servo padrone di hegel no servo dai lavoro al padrone perché vuole rimanere in vita per rimanere in vita deve essere protetto e quindi no poi però il padrone si scopre essere servo del servo perché senza il lavoro del servo non riesce a a vivere ma questo è come dire un attimo di dialettica egheliana il feudo concesso in usufrutto dal signore al vassallo l'abbiamo già detto ciascuno è uomo di un altro uomo guardate la gerarchia rigida di questa organizzazione è insieme base economica e simbolo politico di questa organizzazione sociale attenzione l'organizzazione feudale segnò profondamente rapporti sociali nell'occidente medievale imprimendo dei caratteri di lungo periodo durerà tantissimo questa questa società feudale la statica società dei tre ordini ci dice qua il cioffi che stiamo consultando e siamo arrivati a alla di alla rigida divisione nei tre ordini che sembra regheggiare no vi ricordate tre ordini a tripartizione della società in platone qua invece parliamo di oratores cioè i chierici che pregano bellatores i nobili armati che difendono e i laboratores cioè i servi che debbono appunto fare il lavoro di procacciamento del cibo e qua ascoltiamo la voce di un vescovo cattolico e poeta dell'epoca cioè della seconda metà dell'undicesimo secolo ad alberone di laon citiamo la casa di dio è dunque divisa in tre gli uni pregano gli altri combattono gli altri infine lavorano queste tre parti coesistono e non sopportano di essere disgiunte i servizi resi dall'una sono la condizione delle opere delle altre due vedete come sono intrecciate poi continua ad alberone ciascuna a sua volta si incarica di soccorrere l'insieme a questo patto non è solo un patto sociale politica è qualcosa che ha che affonda le sue radici addirittura nel misticismo infatti un servo che si fosse ribellato contro il suo signore che si fosse sottratto al suo dovere di obbedienza avrebbe compiuto più che un atto di insubordinazione politica proprio un atto un sacrilegio quindi vedete come nella statica nella statica società feudale chiusa ai mercati e agli scambi rapporti fra gli uomini sembrano fissati per l'eternità come le sono i cicli agrari sempre uguali della semina e del raccolto dopo il mille c'è una ripresa economica nell'unicesimo secolo inizia in europa un processo di sviluppo economico annunciatosi con la graduale ripresa dell'attività commerciale e seguito dalla rapida crescita di una società centrata sul sistema urbano ora questa fase di sviluppo che si concluderà nel 1300 costituisce l'apogeo della civiltà medievale migliorano le condizioni di vita della gente si afferma l'esperienza comunale la rinnovata forza economica e politica consente all'occidente di riaffacciarsi dopo secoli sul Mediterraneo mentre nel campo dell'arte c'è il trionfo del romanico e del gotico e nascono contemporaneamente le nuove letterature in lingua volgare noi qui ricordiamo velocemente che il primo documento in volgare italiano è il Placido Capuano del 1960 ora questa ritrovata tranquillità delle popolazioni europee coincise con una forte crescita demografica dove prima esistevano solo i piccoli insediamenti di contadini i manzi sparsi in regioni enormi e spopolate cominciavano allora a comparire nuovi villaggi e al tempo stesso diminuivano le zone paludose nuove terre venivano sottratte al dominio delle foreste la popolazione ricominciava finalmente dopo anni di intorpidimento a spostarsi a ridosso del castello del signore pronta a rifugiarsi sotto la protezione dei suoi cavalieri le città si rianimavano le grandi strade romane che per secoli che per secoli erano state sommerse dalle piante tornano ad essere ripristinate le grandi vie consolari fatti dai romani durante i periodi di espansione ma il fatto più importante fu che la crescita produttiva fu più che proporzionale rispetto a quella demografica dando luogo a un'eccedenza di beni che costituì la condizione indispensabile perché potesse svilupparsi il commercio ora con la ripresa economica avvenuta a partire dal 1000 si riattivò la sfera mercantile monetaria e si ricostituirono i luoghi di scambio le fiere e i mercati mercati, borgo, borghesi, mercanti ma in questa rigida società feudale come si colloca all'interno di questa rigida struttura gerarchica questa società tripartita non era in grado di accogliere le nuove figure economiche del mercante e dell'artigiano figure sostanzialmente urbane che tornavano a animare gli antichi centri decaduti da secoli ridotti a piccole cerchie di mure intorno a essa si costruivano le abitazioni di questa nuova popolazione qui si aprivano i magazzini le botteghe artigiane i negozi fondachi le città si allargavano con l'aggiunta di questi nuovi soborghi o come si chiamavano allora borghi e borghesi vennero chiamati mercanti gli artigiani che li abitavano la struttura della società feudale era inconciliabile con l'esigenza di autonomia che ponevano i nuovi ceti mercantili artigianali così le città cominciavano gradualmente a sottrarsi ai vincoli feudali e sul loro territorio si affermavano nuove franchigie attenzione a questo lemma franchigie economiche e giuridiche nel diritto medievale la franchigia è un privilegio concesso dal sovrano sia a uno stato sia ai cittadini come per esempio la facoltà di formare dei comuni la libertà di esigere tasse per l'utilità degli abitanti e via citando ora nelle crisi dei poteri tradizionali dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica e dell'autorità imperiale le città iniziarono ad affermarsi anche con autonome forme giuridico-amministrative i comuni con la diffusione di nuove mentalità e nuovi valori rispetto alla passata alla gloriosa società feudale quindi si può parlare in questo periodo di grandi tensioni nella società feudale poi ci fu la crisi del XIV secolo e il come dicono molti storici il tramonto del Medioevo anche se altri storici non sono molto d'accordo con questa con questa dicitura però insomma fra la metà del 200 e i primi decenni del XIV secolo l'Occidente raggiunse il limite delle sue possibilità espansive sia per quanto riguarda le risorse economiche sia per quanto riguarda il sistema socio-politico dominante insomma quello feudale oramai incapace di risolvere le sue interne contraddizioni ripeto Hegel farà delle analisi acutissime su queste tensioni la crisi che ne eseguì fu catastrofica signori siamo nel 1300 una delle più gravi di tutta la storia dell'Occidente che segnò il declino della civiltà medievale il grande sviluppo che c'era stato nei secoli precedenti dall'undicesimo al tredicesimo secolo era stato principalmente uno sviluppo agricolo di tipo estensivo cioè l'allargamento dei campi da coltivare e poco aveva inciso sulla produttività delle culture ma la mancanza di nuove terre da dissodare e l'impoverimento di quelle messe a coltura sottoposte appunto a uno sfruttamento intensivo provocarono inevitabilmente uno squilibrio sempre più marcato fra domande e offerta la crisi si annunciò con una serie di eccezionali carestie che si ripeterono con frequenza e provocarono larghi vuoti di popolazione aumento dei prezzi fuga dalle campagne inurbamento massiccio inurbamento tutti si spostano in città questi furono fenomeni che non avvennero solo in Italia ma accadero un po' in tutta Europa dal settore agricolo la crisi poi rimbalzò a quello artigianale e manifatturiero e in questa situazione così già gravemente deteriorata nel 1348 Santo Boccaccio un'epidemia di peste di gravità eccezionale la peste nera proveniente anche quella dall'Asia uccise un terzo della popolazione mondiale 20 milioni di morti stimati prodotto dalla crisi la peste ne fu anche un formidabile acceleratore la crisi economica ben presto si trasformò in crisi sociale e in varie regioni d'Europa scoppiarono violenti tumulti violente rivolte contadine che si intrecciarono cronologicamente con analoghe sommosse nella città ricordiamo le rivolte più importanti quelle del 1323 1828 nelle fiandre occidentali quella del 1358 nella regione di Parigi e poi quella ingrese rivolta ingrese del 1381 insomma fine dell'universalismo medievale si frantumava definitivamente il sogno mai del tutto realizzato di un occidente cristiano unito sotto la guida dei suoi sovrani universali e fallito ogni progetto di restaurazione imperiale anche il papato dovette abdicare e rinunciare alle sue pretese universalistiche simbolo di questa rinuncia alle pretese universalistiche del papato fu la sua fu la cattività avignonese dal 1305 il papato fu costretto ad avignone e ci rimarrà per oltre per più di 70 anni ma un danno ancora maggiore si produsse negli anni che seguirono quando con lo scisma d'occidente personaggi diversi iniziarono a contendersi il titolo di papa e qui papi antipapi una sarabanda allucinante di fronte a una chiesa così pericolante e sempre più irrigidita nella sua struttura di potere furono poi proposte con forza i temi delle riforme su tutta quella protestante del 1500 che caratterizzerà in modo profondo appunto i primi decenni ma qui nel 1500 siamo ormai nell'età moderna alcuni regni nel frattempo iniziarono a prefigurare gli stati nazionali anche se in questi regni in queste monarchie patrimoni personali di singoli sovrani mancavano una precisa definizione territoriale un sentimento di appartenenza alla medesima nazione comune a tutto il popolo ma anche il loro potere centrale non era forte e riconosciuto però insomma quando questi elementi cominciarono ad affermarsi questi regni cominciarono ad affermarsi nasceranno poi quelli che sono detti dall'astrografia gli stati moderni ciò avverrà in Inghilterra ricordiamo la monarchia inglese c'è dal 927 poi avverrà con la monarchia francese terminata ma che era iniziata nell'843 e poi l'unione in Spagna la monarchia spagnola nel 1479 insomma e qui concludiamo con il tramonto del Medioevo la res publica cristianorum la repubblica cristiana lascia il posto all'Europa delle nazioni aprendo un nuovo capitolo della storia dell'Occidente grazie per la vostra attenzione questo era un contesto storico necessario per poi andare a vedere come dire la filosofia medievale la cornice storica è sempre importante perché sarà appunto all'interno di essa che la riflessione filosofica troverà come dire hummus terreno fertile per poi svilupparsi grazie lasciate un like iscrivetevi al canale ma soprattutto spargete parola se è vero che l'anima della pubblicità è appunto il passaparola grazie 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 a tutti.